Sarò il grande campione! Lo vedremo! Charmander, scelgo te! Quindi questo è il tuo Pokémon! Voilà! Ecco il mio! Ma è piccolo! Char, fuoco! Cosa? Non avresti dovuto farlo! Oh, cavolo! Che capelli da urlo, fratello! A terra! Oh no, Pichu! Qualcuno mi aiuti! C'è un dottore! Il polso è sparito! Indietro! Sono il dottor Miau! Dottore! È incosciente e non ha polso! Indietro! Ci penso io! È urgente! Libera! Un altro! Credo che non funzioni! Ehi là! Ambulanza Scorbani! Ho bisogno di pensare! Cosa sta facendo? Lo so! Patatine di primo soccorso! Qualcuno ha detto patatine? Evviva! Evvivo! Wow! Bel lavoro, dottor Scorbani! Hai salvato Pichu! Senza dubbio è il miglior dottore di sempre! Ho solo fatto il mio lavoro! Dottor Scorbani! Esibizionista! Siete tutti in questa vila? Sì! Distribuisce poche bolgrati su qualcosa del genere! Oh! Sei qui per me? No, no! È che non ci sono posti liberi là! Ok! Collega! Rosisti! Grazie! Sto andando a fuoco! Aiuto! Perfetto! Hai solo peggiorato le cose! Mi dispiace! È tutta colpa del mio naso che cola! Fermi! No! Passa pure avanti! Sei molto gentile! Oh! Ciao! Qual è il tuo problema? Wow! Il termometro fa le bizze! Ok! Eccone uno normale! Grazie! Ops! Che carino! Dammi un secondo! No! Niente clistere in questo caso! Ecco delle gocce nasali! Che sollievo! Eccu! Ops! Non è servito! Miau! Andiamo nel mio ufficio! So come curarti! Ecco! Mettiti sul lettino! Buona fortuna, gatto di fuoco! Ciao! Curiamo il tuo naso che cola, tesoro! Grazie! Accio! Oh! Serve un estintore? Grazie! Questo dovrebbe passare! Ecco, drago! Mettilo nel naso cinque volte al giorno! La mia dolce carotina! Che c'è qui? Meglio non lasciare impronte! Oh, stupidi gatti! Ok! Dobbiamo agire in fretta! Peperoncino piccante! E vernice arancione! Nessuno si accorgerà dello scambio! Bellissima! Un crimine perfetto! La mia carotina è matura! Mi sembra buona? È troppo piccante! Latte! Giuso! Così va meglio! Miau! Scorbanni! Questo significa guerra! Dai un bacio d'addio al tuo latte! No! 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 Stai indietro! Devi metterti in coda! Sono io la prossima! Ho un appuntamento! Ecco il buono sconto, Cubone! No, non credo proprio! Vai matto per gli ossi? Ecco, bravo ragazzo! Prendi l'osso! Ehi! Tieni questo! Cosa? Sei impazzita? Mi sento a disagio! Cosa vuoi? Siediti! Io non gioco con te! Cane cattivo! Queste sono le mie scarpe! Ehi! Il tuo documento? Tutto chiaro! Devi fare un esame del sangue! No! Tutto il sangue di mercoledì è mio! Ehi! Stai bene? Mi farai fare un'analisi del sangue? No! Ma no! Lo farà lui al mio posto! Che carino! Rilassati! Non ti farà male! Posso avere il tuo pollice? Bravo! La mano più coraggiosa di sempre! Il paziente mercoledì è in salute! Bene! Facciamo un controllo! Respira! Trattieni! Sembra tutto normale! Di... Ah! Tutto bene! Controlliamo i riflessi! Oh! Ha funzionato! Che diavolo sta succedendo? L'esame ha mostrato che il paziente è sano! Vieni nel mio studio! Sono un medico certificato io! Cosa? Bunny! Stai rubando i miei pazienti! Lasciatemi! Da quale dottore dovrei andare? Il dottor Miau o il dottor Scorbanni? Ragazzi! Scrivete le vostre risposte qui sotto! Mi fa male la pancia! Dottore! Aiuto! Facciamo un'ecografia per vedere cosa c'è! Eh? Popcorn? Che c'è? Ecco fatto! Devi ridurli! Lo stomaco mi fa male comunque! Vedi A? Di A! Cos'è questo? Da paura! Non sapevo di poterlo fare! Dai! Fammi vedere! È un clacson! Ma che mangi? Cos'altro c'è? Che schifo! C'è qualcosa rincastrato! Un clown? Sei così avido! Basta con questi giochetti! Torniamo a casa! Grazie dottore! L'atterrò doppio! Oh oh! Andiamo! Cose del genere succedono spesso da queste parti! Stupido Miao! Ti darò una lezione! Geodude! Sembra che tu abbia delle pietre nel corpo! Oh! Un piccolo laser! Vieni qui! Preso! Cosa? Opsi! Scusa! Devi ringraziare il tuo collega! Oh! Non me l'aspettavo! Ehi! Vampiro! Oh sì! Una zanna è chiaramente insufficiente! La giusterò! Ok! È un caso difficile! Oh! Scusami! Devo rispondere! Pronto? Fregata! Sto per fare un'operazione dentale! Grazie per l'operazione! Ops! Coniglietto vampiro! Vuoi un po' di sangue di carota? Cosa? Sento Dracula! È imbarazzante! Entra! Mi ricevi? Come posso aiutarti? Ho un forte mal di testa! Sei nel posto giusto! Ho rimedi per ogni tipo di malattia! Ecco! Per il mal di testa! Un bicchiere dovrebbe fare al caso tuo! Cin cin! Ti senti diverso? No! Il mal di testa mi sta uccidendo! Un altro bicchiere direi! Subito! Ok! Allora va meglio! No! Un'altra bottiglia! Ecco! Bevi! Il fatto è che odio il latte! Abbiamo finito il latte! Per fortuna ho un asso nella manica! Non posso più sopportare il lattosio! Rilassati! Queste sono pillole! Devi solo scioglierle in acqua! Altro latte! Questa è la miglior medicina! Oh! Non ce la faccio! Le papere non sanno nulla di medicina! Oh! Latte acido! Miau! Ciao, gattina! Che succede? Stai bene? Ti serve aiuto? Arrivo! Grazie, mia salvatrice! Questa è per te! Grazie! È carina! Accidenti! Mi prude tutto! Alle pulci! E il latte mi aiuterà! Miau! Oh sì! A destra, bello! Cosa stai facendo? Non è d'aiuto! No! Non le chiedo aiuto! Posso aiutarmi da solo! Senti nomi! Dovrò andare da scorballi! Aiuto! Ho le pulci! Ho prurito ovunque! Non è un problema! Ti curerò subito! Dov'è il mio Pokémon Miau? Qualcuno ha visto il mio Scorbunny? Laggiù! Che sollievo! Miau! Eccoti qui! Il mio Scorbunny! Sei il mio gattino preferito! E le pulci! Aspetta! Oh no! Pessima idea! Miau! Cosa sta succedendo qui? Una stanza segreta? Quante scatole! Ehi! Questo è il mio posto! Vattene! Chiudi il becco, puzzone! Io vi butto fuori! Che puzza! Ho il deodorante per ambienti! Come usate! Presenterò un reclamo! Io alla precedenza! Oh gattino! E se facessi una vera casetta per te? Oh sì! Svegliati Miau! Abbiamo del lavoro da fare! Ehi! Anch'io voglio una casetta! Ma sono troppo pigro! Per favore! Come posso dire di no? Bene! Ecco il progetto! Ti piace? Sei serio? Bene! E adesso? Mi piace! Una casa carotosa! Quindi quello è il tuo modello? Il nostro è molto meglio! Non sono stata io! O io! Non io! Sono stato io! Scusa gattino! Non volevo! Ti fa male? Scorbanni? Dobbiamo pulire! Mi piacerebbe molto! Fatti da parte! Ok! È tutto pronto! È tutto pulito! Ottimo lavoro! Grazie mille! Per prima cosa dobbiamo creare una struttura! Ma di cosa? Aspetta! Ecco! Ho del legname! Ottimo! Ma ora ci servono gli attrezzi! Come questi? Grazie! È proprio quello che ci serve! Tieni qui! Devo segare! Cosa? Scorbanni? Hai ragione! A chi serve la sega? Bel lavoro! Wow! E tu? Facile! Tieni qua! I miei artigli faranno tutto il lavoro d'oro! Vuoi segarli con una forchetta? Ops! Ecco! Scusa! Il mio super artiglio! Questo è ancora peggio! Mi dispiace! Come stai, Miau? È il mio povero artiglio! Come possiamo unire questi pezzi? Grazie! Servono questi? Certo! Ma ci serve un abitatore! No! Grazie ancora! Ma che? Oh! Bel lavoro, Scorbanni! È proprio quello che ci serve! Dove hai preso gli attrezzi? Con lo scomposto! Ci sono! Buona fortuna, Miau! Siamo stati derubati! Qualcuno mi vede? Ah! Peccato! Fermati! Sei tu quello che sta rubando i nostri attrezzi! Il mio bello aspetto! Cos'è successo, Michio? Non chiederlo nemmeno! Tieni, prendi un po' di latte! Io prendo il mio zaino! C'è tutto quello che mi serve! Tienilo dritto, Casey! Cresci, Erbetta! Cresci! Cresci, Erbetta! Cresci! Ottimo lavoro, Scorbanni! Erba fresca! Che bel gattino! Oh sì! Dovrei piantare delle carote! Cresci, 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 mio dolce carotina! Ehi, dammi un po' di vernice! Perché? Ok! Migliorerò il tempo! Perfettamente soleggiato! Oh, eccola! Possiamo iniziare a raccogliere? Hai! Una scheggia! Perfetta! Ecco una copertura di carote! Wow! Un rivestimento tutto al naturale! Grazie! Questa casa è così ecologica! Scorbanni, sei lì un grande! Ehi, cos'è questo? Grazie, Scorbanni! Bello! Battì il cinque! Miau! Sei qui dentro? Bravo gattino! Hai fatto una porticina! Ed ecco la vernice! Prendiamo tutta la casa super colorata! Un grande artiglio! Oh oh! La mia zampa! Che schifo! Via da me, vernice! Ehi, è venuta piuttosto bene! Sono un grande artista! Aspetta, lo sistemo io! Questa nuvola sta rovinando la vista! Ecco! Ora è tua! Oh oh! Aiuto! Scorbanni! Tieni duro! Torna sulla terra! Grazie per avermi preso! Nascondiamo questa nuvola in casa! È così accogliente! Wow! Cosa succede se... È elettrica! Un temporale! Ho paura! Io odio la pioggia! C'è brutto tempo! Poverini! Ecco! Prendete una coperta! Aspetta! Ops! Miau! Sei tutto sporco! Mi dispiace tanto! Questa sarà la casetta più accogliente di sempre! Oh! Adoro questo posto! Dove posso collegare queste luci? Oh! C'è la corrente! No! Non c'è! Ho un'idea! Aspetta qui, Miau! Non pensarci nemmeno! Le leggi della fisica non mi deludono mai! Da qua! Il mio gelato! Ora abbiamo un recinto! Non mi va più il gelato! La giornata mi sorride! Miau! Il mio prezioso gattino! Cos'è? Ciao ragazzi! Volete vedere un trucco di magia? Siamo i tuoi nuovi fiori! Ora balliamo! Dove sono le patatine? Qualcuno ha visto le patatine? Miau! Nessuno ha le patatine? No! Credo che andrò al negozio! Wow! Questo è Miau! Ora appartieni a me! Fammi almeno finire il latte! Che shopping fortunato! Finalmente ho Miau! Un latte grande per me, per favore! Miau! Scendi! Ok! Torneo Pokémon! E ci sarà anche il mio Pikachu! Devo partecipare! Pikachu! Concentrati! Devi vincere! Il mio Pikachu! Vuoi delle patatine? Sei pazzo? D'ora in poi è il mio Pokémon! Bye bye! Non ci vorrà molto! Vediamo quali Pokémon possiedo! Avete idea di quali Pokémon sia questo? Scrivete le vostre risposte qui sotto! Cosa? Pikachu! Smetti di mangiare cibo spazzatura! Vediamo quanti chili in più hai messo su! Non vedo nulla! Non va bene! Ti rimetterò in forma! Pokémon ciccioppetto! Tieni la corda per saltare! E salta velocemente! Uno, due! Uno, due! Velocità fulminea! Siete! Solo acqua! Non mi piace! Latte fresco per i miei Pokémon freschi! Ciao! Puoi un po' di latte? Oh, lo adora! Bravo, gattino! Non avrei dovuto farlo! Torna nella Pokéball, gatto selvatico! Ok, l'ho capito! Pikachu! Passi a fare un pisolino! Non puoi! Fai girare i pedali, Pikachu! Sono vicino alla vittoria! Cosa? Perché la TV si aspetta? Il topo pigro sta sonnecchiando di nuovo! Oh! Mi è venuta un'idea! Tutto tornerà a funzionare in man che non si dica! Miammi! Bravo, Pikachu! Iniziamo l'allenamento, Miau! Forza, Miau! Vai! Non ne ha voglia! La gara è dietro l'angolo! Forza! Datti da fare! Non mi interessa! Ok! E il latte? Latte! Bravo, Miau! Affila gli artigli! Più forte! Ce l'hai fatta! Forza! Affilali tutti! Forza! Grazie a tutti i muri, Miau! Ben fatto, Miau! Ti meriti un po' di latte! Ohi! Individua l'obiettivo all'interno! Forza! Ben fatto, Miau! Controlliamo la tua reattività! Segui il laser! Tutti i gatti sono uguali! Ehi! Il mio laser si è rotto! Ben fatto, Miau! Sei pronto? Puoi entrare nella Pokéball? Batti il 5! Non mangiare troppo! O diventerai cicciottello! Siamo pronti per un torneo! Devi allenarti! Tieni i manubri! Datti una mossa, Pikachu! Pika Pika! Pika Pika! È ora di lavorare sugli addominali! Forza, Pikachu! Uno! Due! Uno! Due! Ok! Ora tieni la barra! Ci sei, Pikachu! Perché ti sei fermato? Spingi! Spingi! Spiauforte! Dimostra che sei un Pokémon! Bene, Pikachu! Bene! Ok! L'allenamento è finito! Il torneo di Pokémon è iniziato! Io andrò con Miau! Fagli vedere di cosa sei capace! Vai, Butterfree! Allora, vuoi combattere, Phil? Butterfree? Sono serio! Una farfalla contro un gatto! Aiuto! Non voglio morire giovane! Ti salverò! Troppo tardi! Ma dov'è? Ora è mia! Vai, Pokémon! Chiamo Ibi! Hai chiuso, Phil! Forza, Miau! Fai del tuo meglio! Che pazzie! Schiacciala, Miau! Che succede? Il torneo è truccato? Grande, Miau! Prendi un po' di latte! Tieni! Vai, Pokémon! Cosa? Ancora? Cosa devo fare? Combattere, credo! Ma che tipo di Pokémon è? Diglett! Dov'è andato? Niente Pokémon, niente lotta! Lo prendi tu? Sono a posto! Puoi tenerlo! Sei finito, testariccio! Il mio Pokémon farà piazza pulita del tuo! Bla, bla, bla! Combattiamo! Vola come una farfalla e fungi come Pikachu! Ehi, qual è il problema? Vai, Miau! Che diavolo è questo? Ciao! Ho vinto! Pikachu! Svegliati, mio amico giallo! Guarda cosa ho qui! Miau! Mangia, piccolo! Rimettiti in sesto! Pikachu! Pikachu! È così bello riaverti! È ancora lì! Miau! Conosci Pikachu? Sono sicuro che andrete subito d'accordo! Pikachu! Sono un perfetto allenatore di Pokémon! Fantastico! Oh, non male! Phil, ti va di giocare? Andiamo! Il torneo Pokémon è in pieno svolcimento! Phil si scontra con Sean! Che vincerà? Sean ha molte più carte! Povero Phil! Cosa farà? Fatemi concentrare! Ho un asso nella mia Pokémon! Guardate e imparate! Pikachu! Schiaccialo! No! Oh no! Le mie carte! Ora appartiene tutto a me! Hai perso, Sean! Mi è rimasta solo una carta! È un elmo! Un elmo! Sul serio? Grazie! Hai migliorato il mio Pokémon! Questa è la fine! Ben fatto, Pikachu! Sei il miglior Pokémon che ci sia! Non avrai mai un Pokémon come questo, Sean! Mangiate il fegato! Ciao, spiegato! Che bel gadget rotondo! Così unico! Come si apre? Ok! Passiamo al piano B! L'amazza! Piano K! La katana! Ma come ti apro? Pika Pika Pika! Pika Pika! Ehi! Che maleducato! Oh, scusa! Così morbido! Guarda che belle orecchie! Pika Pika Pika! Pika Pika! Pika Pika! Pikachu non condivide il cibo! Mi piacerebbe uno spuntino! Ah, sta arrivando! Wow! Oreo! Cibo! Come faccio a trovare del cibo? Non c'è niente! Pikachu non può mangiare aria! Oh, capisco! La mia Poké Ball! Oh, no! È sparita! Pikachu! Dove sei? Pikachu! Oh, no! Il mio piccolo Pikachu è sparito! Niente più lacrime! Ti troverò, mio amico giallo! Pikachu è scomparso! Pikachu! Preso dopo senza tetto! Aiuto! La protezione animali è al lavoro! Aiuto! No! Ti troverò io! Cosa c'è lì? Dovrò proteggermi! Cosa? È un nuovo Pokémon? Slowpoke! Wow! È Slowpoke! Due piselli in un baccello! Entra nella Poké Ball, un nuovo amico! Oh! Prendiamo altre verdure salutare! Non mi piace! Un pomodoro succoso da abbinare alle tue guance! No! Insalata! Patatine! Verdure fresche? Soda! Baglio degli snack! Per favore! No! Prendiamo del cibo sano! Salve! Aspetta! Chi ha messo tutti questi snack? Pikachu! No! Bene! Prendiamo tutto! Il cibo sano è comunque stupido! Slowpoke! Vieni fuori! Mi aiuteresti a trovare il mio Pikachu? Per favore! Sì! Ma certo! Slowpoke! Andiamo a cercarlo! Andiamo a cercarlo! Forza! Slowpoke! Dobbiamo affiggere quanti più manifesti possibile! Cosa? Ti muovi come una lumaca in pensione! Svegliati! Slowpoke! Dobbiamo trovare Pikachu! Ops! Scusami! E' Jigglypuff! Ciao! Entra nella mia Pokéball! Mi piacerebbe! Quel Pokémon è mio! Allora facciamo una battaglia di Pokémon! Forza, Jigglypuff! Vincerai! Stiamo per vedere chi è più forte! Il mio Slowpoke si sveglierà! Jigglypuff! Ha vinto! Ok! Puoi avere il mio Pokémon! A nessuno importa del dormiglione! Puoi tenertelo! È fantastico! Questo è il mio Pokémon! Jigglypuff! È ora di andare a casa? No! Sì! Slowpoke! Andiamo, amico! Orecchie da Pikachu! Ti ha trovato! Una banana! Oh! Banana! I compiti sono la cosa peggiore che ci sia! Oh! Il mio Pokémon! Puoi aiutarmi con i compiti? Questa è per te! E io giocherò ai videogame! Buona fortuna, Pikachu! Oh! Devo andare a lezione! Per fortuna il mio Pokémon ha fatto tutti i miei compiti! Cos'è questo? I miei compiti! Non è accettabile! Pensi che questo corso sia la scienza del dolce? Oh, Pikachu! Sei stato bocciato! Ora non scapperai, Jigglypuff! Fermati, Pokémon! Oh! Un Pokémon libero? Ho proprio bisogno di te, Jigglypuff! Giù le mani! Jigglypuff è tutto mio! Non per molto! Battaglia di Pokémon! Forza, Pikachu! Fagli vedere chi comanda! Dai, Jigglypuff! Pikachu! Pekka, Pekka! Pekka, Pekka! Cosa stanno facendo? Pekka, Pekka! Pekka, Pekka! Pokémon! La festa è finita! Un biscotto perfetto! E il mio caffè! Oh, ho finito i biscotti! Cos'è questo? Caffè! Altro caffè! Caffè! Ti va di giocare, Sean? Badminton? Football? Frisbee? Copy playtime? Sean, sbrigati con i denti! Leggiamo dei libri? Sean! Giochiamo! Forza! Oh, è il mio Pikachu! Tu! Hai rubato il mio Pokémon, Sean! Sei un cattivo! Aspetta! Puoi riavere il Pokémon se puoi! Combattiamo! Forza, Slowpoke! Fallo fuori! Oh, un pisolino! Che bella idea! Notte, notte! Sogni d'oro! Sono una coppia perfetta! Mio Pikachu! Ci siamo riuniti! Sean! D'ora in poi il Pokémon è tuo!